Buongiorno a tutti, non lo so se alcuni sono a Milano o altrove, nel caldo africano che stiamo vivendo. Quindi veramente grazie a tutti di essere presenti in questo webinar che è veramente un momento importante. Prima abbiamo la fortuna di avere Edelman, che è una società veramente specializzata, conosciuta da più di vent'anni, a sondare, a capire il trend, il spirito che abbiamo sia l'insieme dei stakeholder che costituiscono l'economia, il business, la vita in generale. Quindi è un piacere io di ricevere oggi Fiorella Passoni che è il CEO di Edelman e Antoine Harari, se non sbaglio il suo titolo CEO di questa società. Nel titolo avete tutto, si chiama Trust Barometer, Trust. La vita è fondata sulla fiducia. Se non c'è fiducia è molto difficile, molto difficile. E quindi nel business e affari, la fiducia, come nella vita in generale, è fondamentale. Quindi questa società, che lo ripeto da vent'anni fa questo, cerca di sondare, di capire, secondo una serie di regole. Adesso, diciamo, ben messa da tempo con questa storia, la storia che consiste ad avere un'evoluzione nel trend di questo barometro è veramente importante. Quindi lascio subito la parola a Fiorella Passoni per due parole su di introduzione su questo Trust e l'ultimo sondaggio che è stato fatto. A lei, Fiorella. Bene, grazie mille e buongiorno a tutti. Faccio una precisazione. Io sono CEO solo per Edelman Italia, nel senso che global non ancora e forse mai. Mi fa piacere condividere con voi il Trust Barometer. Tra l'altro ho già fatto una presentazione un paio d'anni fa, quindi chi di voi ha partecipato alla precedente edizione avrà anche modo proprio di vedere qual è l'evoluzione. Mettiamo adesso la presentazione e la prima cosa che voglio dirvi è qual è la metodologia di questo Trust Barometer. Noi lo studiamo, studiamo il tema della fiducia da ben 21 anni, presentiamo poi il nostro rapporto al World Economic Forum di Davos, quindi solitamente facciamo la rilevazione fra la metà di ottobre e la metà di novembre e poi abbiamo delle edizioni che nel corso dell'anno vanno a lavorare su alcuni paesi e ad esempio Antoine Arari, il mio collega, dopo presenterà l'edizione della primavera nella quale troveremo dei dati aggiornati della Francia, l'Italia in quel caso non era stata inserita. Questa survey viene fatta in 28 paesi, dicevamo che analizziamo circa 33 mila rispondenti e suddividiamo la popolazione fra pubblico ben informato, quindi un po' l'elite che rappresenta il 17% della popolazione globale e il restante 83% trattasi di mass population. Per vostra informazione l'Italia viene rilevata da 16 anni e la Francia esattamente da 21 anni. andiamo a investigare quindi a capire la fiducia nelle quattro istituzioni e le quattro istituzioni sono il business e quindi tutto il mondo delle aziende profit, i governi, le associazioni non governative e una quarta istituzione che sono i media. Vediamo adesso un po' che cosa abbiamo rilevato nel corso dei diversi anni. Ci sono state delle tendenze che noi abbiamo tracciato in maniera molto chiara. Ad esempio nel 2002, quindi circa vent'anni fa, abbiamo iniziato a vedere la caduta del CEO e dei leader un po' come modello di celebrità. Nel 2006 abbiamo iniziato a tracciare il fatto che le persone come me fossero ritenute molto credibili. Abbiamo poi visto nel 2010, ad esempio, i due elementi essenziali alla costruzione della fiducia che sono la performance e la trasparenza oggi diventata etica e abbiamo iniziato a vedere nel 2016 un fenomeno che ancora oggi continuiamo a tracciare in maniera abbastanza importante che è il divario di fiducia fra il pubblico di massa e l'elite. Prima di entrare nel mondo covid e post-covid, se possiamo già parlare di post-covid, vediamo da dove veniamo, quindi non l'ultima rilevazione annuale ma la penultima. Quindi prima che scoppiasse il covid, quali erano i temi che in qualche modo affliggevano o comunque erano rilevanti per l'intera umanità? Temi di cui tra l'altro si è sempre occupato anche Davos. Ho analizzato quattro, ho estrapolato diciamo quattro fenomeni che in qualche modo noi ci stiamo ancora portando a presso oggi nell'epoca covid. Il primo abbiamo parlato, ho parlato prima di divario di fiducia tra pubblico di massa ed elite e questo si rileva benissimo in questo tema di pessimismo rispetto al futuro. Come vedete sia l'Italia che la Francia sono nella parte discendente quindi certamente non c'è grande fiducia nel futuro e questo è l'unico punto sul quale la Francia è in qualche modo più pessimista dell'Italia. Devo dire in generale che il Trasbarometer dà la fotografia di, per quanto riguarda l'Italia, un paese con tante preoccupazioni ma con un po' più di speranza rispetto alla Francia. La Francia è un paese dove rileviamo in questi dati meno preoccupazioni ma un paese con una visione un po' più scura del futuro e anche con una severità maggiore rispetto a determinate tematiche. Visto il discorso della prosperità futura abbiamo il secondo tema che è il futuro del lavoro dove l'87% degli italiani e l'87% dei francesi temono di perdere il loro lavoro. C'è una grande differenza, lo vediamo in questa fotografia, l'Italia è l'unico paese fortemente preoccupato per il trasferimento delle fabbriche o comunque la rilocazione del posto di lavoro mentre la Francia è più sensibile a tutte le tematiche che sono impattate dalla tecnologia quindi l'automazione eccetera. Il terzo elemento è quello della tecnologia fuori controllo. interessante vedere questo 80% degli italiani che temono che chi ci governa, chi è deputato a fare regole, leggi per gestire diciamo la tecnologia non sia in grado di comprendere l'evoluzione tecnologica. Dicevo prima che i francesi sono tendenzialmente meno preoccupati sui fatti specifici e infatti come vedete i dati sono più bassi. Quarto tema è la qualità dell'informazione. Italiani e francesi comunque temono che l'informazione sia contaminata e si reputano poco capaci di comprendere se un tipo di informazione è veritiera oppure è una fake news. Arriviamo adesso all'analisi annuale quindi quella che abbiamo presentato a gennaio di quest'anno. Sicuramente la pandemia ha messo il tema della fiducia molto sotto pressione. Infatti vediamo che l'istituzione tendenzialmente più penalizzata è l'istituzione del governo sia centrale che locale con tutti questi paesi che vedete con un declino importante. Abbiamo una Francia invece a più due e dato molto interessante l'Italia a più dieci. Questa fotografia che voi vedete dell'Italia è la miglior fotografia che l'Italia abbia mai registrato in questi 15 anni dove se è vero che non c'è ancora nessuna istituzione colorata di blu che vuol dire che ci fidiamo pienamente di quell'istituzione è altrettanto vero che siamo neutrali di fronte a tre di queste quattro istituzioni con un decremento da parte verso le associazioni non governative. Tra l'altro sottolineo che business, governo e media tendono a crescere mentre le associazioni non governative perdono di anno in anno. Eravamo partiti 15 anni fa che eravamo attorno all'ottanta per cento di fiducia. Interessante vedere la reciprocità di fiducia fra Francia e Italia. Commento principalmente la fiducia nel business italiano e nel business francese perché il dato sul governo non ce l'abbiamo però interessante vedere come alla domanda quali sono le aziende che ti ispirano maggior fiducia noi sia noi che i francesi crediamo molto nelle aziende tedesche noi italiani mettiamo le aziende francesi al quarto posto mentre è interessante vedere come i francesi reputino il business italiano addirittura più solido del business americano e del business inglese. Guardiamo adesso il tema del quali sono gli elementi che costituiscono la fiducia nelle istituzioni sostanzialmente due la competenza e l'eticità. L'abbiamo visto prima nella tendenza avevamo già iniziato nel 2010 a vedere questo fenomeno adesso l'abbiamo molto meglio isolato e purtroppo né per quanto riguarda l'Italia né per quanto riguarda la Francia mentre gli americani ad esempio hanno il business che viene visto sia come competente che etico dicevo né Italia né Francia hanno istituzioni che possono godere diciamo della fiducia sia sul fronte dell'etica che sul fronte della competenza. Vedete che gli NGO vengono ritenuti etici mentre il business viene ritenuto competente ma non etico e questo è la fotografia della Francia. Miglioriamo perché il triangolo in grigio pieno è la fotografia dell'anno precedente quindi sia Italia che Francia stanno migliorando però ancora ce n'è di strada da fare. a questa fotografia delle istituzioni quindi proprio delle istituzioni prese come tali si accompagna una crisi di leadership infatti vediamo come quando entriamo nel merito ti fidi dei governi, dei leader di governo ti fidi dei giornalisti quindi esco dal mondo dei media nella sua complessità e dentro nello specifico vediamo che tendenzialmente siamo abbastanza nell'area del distrust. L'Italia premia un po' più della Francia i leader di governo e i CEO tendenzialmente per entrambi c'è una maggior fiducia nelle persone di nostra vicinanza quindi le persone della mia comunità locale ma anche il mio CEO il mio datore di lavoro e anche gli scientisti diciamo la comunità scientifica che è sempre stata un po' capostipite nella fiducia anche se forse data una certa sovraesposizione stanno perdendo quota questa è la fotografia italiana la fotografia francese non premia nemmeno i CEO anzi a loro assegna un meno 7 di fiducia e addirittura un meno 13 ai leader specifici di governo quindi avevamo l'istituzione governo che guadagna 2 ma il singolo leader che perde 13 fra le varie domande che abbiamo fatto c'è proprio un tema legato a non sono certo che abbiano le competenze che siano capaci di correttamente gestire in trasparenza l'informazione e tendono a volte ad esagerare per fini personali abbiamo detto che il trust è locale qui vediamo come l'Italia si è allineata a un dato globale la Francia leggermente più bassa però sia noi che i francesi premiamo proprio il nostro CEO c'è un nuovo mandato per il business dove gli italiani sono in qualche modo più tolleranti nei confronti della leadership aziendale i francesi per un buon 81% anche se gli italiani sono 3 su 4 chiedono che i leader a tutti gli effetti oggi prendano posizione sulle tematiche diciamo di interesse per la società per cui dall'impatto della pandemia all'automazione dei lavori alle issue diciamo della mia comunità locale o più in generale diciamo le issue come gender gap ambiente eccetera eccetera questo in qualche modo l'abbiamo visto e è interessante guardare queste due slide solo per l'ultimo dato quindi i CEO che devono rispondere non soltanto al board dei director o agli azionisti ma devono essere devono rendicontare il loro operato al pubblico più in generale per gli italiani 55% interessante vedere il dato francese che dice 75% per questa voce quindi molto meno clementi i francesi nei confronti della loro leadership di quanto non possano essere gli italiani entriamo adesso nel tema delle fake news e quest'anno noi per la prima volta abbiamo isolato un aspetto che è la responsabilità del singolo nel saper controllare l'informazione che consuma e che divulga prima diamo un occhio un po' in generale qui vediamo che in Italia continuano a tenere abbastanza bene i traditional media anche se sono in flessione esattamente come sono in flessione tutte le fonti informative molto basso è il dato del social media che dal 2012 ad oggi dal 47% è passato al 30% stessa fotografia per i francesi con dei dati decisamente più bassi cioè partiamo da un meno 15% rispetto al trust italiano e comunque i traditional media continuano a reggere molto bene vediamo adesso la credibilità nelle varie spoke person spoke people gli accademici quindi tutto ciò che è partnership con il mondo accademico con il mondo esterno di società scientifiche eccetera continua ad essere nella nella priorità insomma per la veridicità delle informazioni anche se in Italia perde dieci punti e person like yourself e all'interno di questo inserisco anche il mondo dei dipendenti quindi seconda fonte più credibile per poi scendere con leader di governo CEO e giornalisti più o meno stessa fotografia per la Francia come ranking con dei dati decisamente più bassi che in qualche modo si accompagnano alla lettura che abbiamo visto prima del mondo dei media parlavo prima dicevo prima che quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto il tema della responsabilità del singolo per controllare in qualche modo la veridicità delle informazioni e quella che noi chiamiamo igiene dell'informazione composta sostanzialmente da quattro fattori gli italiani anche se il titolo in qualche modo dice che soltanto un italiano su tre ha una buona e ha una corretta igiene dell'informazione gli italiani troneggiano e primeggiano devo dire un po' a livello globale quindi abbiamo un 35% che sanno fare un uno screening buono prima di consumare credere e divulgare l'informazione e tenete presente che il 67% degli italiani divulga l'informazione che consuma e di questi un 38% hanno una buona igiene questa è la fotografia dei francesi solo uno su cinque ha una corretta igiene dell'informazione guardate un 50% è proprio povero e sono 44 coloro che distribuiscono l'informazione contro il nostro 67% e solo 22% hanno la capacità in qualche modo di valutare se l'informazione è corretta oppure no torno sul nostro 67% che ancora una volta ci dà una grande responsabilità soprattutto quando gestiamo l'informazione sui social media che è ovviamente il mondo che più si presta per la condivisione delle informazioni guardiamo un po' e sto arrivando alla conclusione la credibilità la credibilità nei settori ancora una volta qui vi mostriamo i dati dal 2012 al 2021 dati che in Italia sono decisamente più alti a livello di fiducia rispetto alla situazione francese e come vedete abbiamo direi forse sono due i mondi che devono essere tenuti in considerazione uno è il mondo del technology che progressivamente perde di fiducia e tenete presente che nel quando noi abbiamo iniziato a studiare il trust in Italia eravamo a un 92% di fiducia nell'industry technology eravamo a un 30% di fiducia nel mondo dei financial services e oggi siamo a 42 quindi c'è proprio una tendenza opposta di queste due industrie per il resto più o meno i dati nel corso di questi anni non sono variati moltissimo guardiamo la situazione francese il technology perde 17 punti e 14 punti lo guadagnano i financial services anche se il loro punto di partenza era 20 contro il nostro 30 per il resto le altre industrie c'è un meno 6 per l'automotive e diciamo che il mondo dell'energia era nel 2019 al 60 e oggi è al 48 io con questo ho terminato e passo la parola al mio collega Antoine Arary per la presentazione dell'edizione Spring che abbiamo fatto soprattutto su mondo Francia Buongiorno a tutti e Fiorella lo ha parlato e ciò mi permette di montare che finalmente in questo environment che noi conosciamo On ha observato durante qualche settimana una ripresa della confianza di una maniera generale, ma questa ripresa della confianza è molto inégalita. Si l'on va su la prossima slide, vous allez vedere che ciò che si chiama il gap, l'ecart tra la popolazione dei publici informati, quindi le persone che sono in una situazione più confortabile, perché sono educa, perché hanno un lavoro, perché sono in un livello di reveni molto importante, senza essere ultra richi, ma che hanno anche un rapporto a l'informazione sui suoi politici e economiche più engagati. ciò che vedono, in una maniera generale, in ogni settimana di una settimana, la slide d'avanti, dei livelli di confianza più elevati, siamo a 71 per questa settimana di mai, mentre il resto della popolazione è a 53, e c'è veramente l'ecart più importante che abbiamo mesurato. in janvier 2020, siamo a 16, quindi ciò significa una nuova volta che abbiamo dei paesi sviluppati, emergenti, in cui ciò c'è una realtà molto differente, tra diverse parti della popolazione, e ciò ha delle conseguenze che sono molto importanti sui voti, sui la relazione business, sui la relazione marca, e, d'une maniera generale, su la maniera in cui si può pensare a la popolazione e il fatto di reconstruire il mondo d'après-Covid, come reconstruire il mondo, in una situazione in una situazione dove abbiamo dei ecchiati di confianza tra le diverse popolazione. La slide suivante parla di la confianza in gli governi, quindi Chiorella ha parlato, c'è molto più d'instituzioni che sono al-dessus di 60% di confianza. C'è molto interessante di vedere che, all'inizio della popolazione, gli governi, non sono stati così male. In la confianza, c'è qualcosa di molto interessante, c'è che abbiamo bisogno di confianza. E in una situazione di crisi, le persone se tornano, globalmente, plutôt, verso il governo. Allora, ciò che è interessante, c'è che, malgri tutto, su 14 pays che abbiamo studiato in questa edizione, abbiamo 10 che sono in situazione di confianza, voire di confianza, in una situazione di confianza. E, finalmente, abbiamo che 4 pays che sono in situazione di confianza, e che sono invece di confianza. La Francia è a 51% di confianza. E, ancora una volta, non c'è la confianza di Emmanuel Macron, nel primo ministro, c'è la confianza di l'entità governamentale, in generale. C'è un molto léger progetto. Se passiamo alla slide suivante, ciò che è interessante, c'è vedere che, in una maniera generale, che, all'interno della pandemia, la confianza di l'entreprise è piuttosto rinforzata. E ciò viene, in contrasto, anche, con la confianza di l'entità governamentale. Ciò fa due anni che abbiamo visto che, la confianza di l'entreprise, nel business è superiore a la confianza di l'entità governamenti su un ente di suoi. E, lì, ciò che abbiamo su questa slide, è il liveo di confianza tra le business e le governamenti per ad essere alcune delle difficoltà che l'abbiamo oggi. E, vediamo che, che sia in materia di croissance economica, che sia in materia di gestione della pandemia, di qualità dell'informazione, di lutte contro le inigualità, abbiamo, in maniera strutturata, un po' più di confianza nelle persone che nei governamenti. Ciò vuol dire che, oggi, ciò che ciò che si tratta, c'è un déplacimento delle attenzioni tradizionali vis-à-vis dei governamenti, on potrebbe dire, in una certa mesura regaliana, delle attenzioni, con le più di attenzioni, che si tratta, di più in più, di attenzioni su il mondo delle altre persone, dei attenzioni che le poussano in dei territori che non hanno l'abbiamo, delle attenzioni che loro donano una responsabilità accru vis-à-vis dei citoyens, dei hommes e delle famze. On peut passer à la slide suivante pour s'attarder un petit peu sur l'état d'esprit dans lequel se trouvent les gens dans les 14 pays de notre étude. Et on peut dire que le sentiment prédominant, c'est celui de la peur, de l'anxiété. On sait qu'il y a une crise de la santé mentale, du well-being, qui a été en plus de la crise épidémique. Et c'est loin d'être fini. On voit des progrès liés à la vaccination, liés à une meilleure compréhension de la gestion de l'épidémie par les gouvernements, par les individus. Néanmoins, on a posé la question, est-ce que vous êtes toujours dans ce qu'on a appelé un état d'esprit de pandémie ? Ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose ? Et on voit que, globalement, on a 65 % des répondants dans les 14 pays qui nous disent, non, je suis toujours dans un état d'esprit de pandémie. C'est 90 % au Brésil, où on connaît la situation, mais c'est 72 % en France. Donc, malgré les progrès qui sont faits, malgré la réouverture progressive dans certains pays, on voit que les traces laissées par la pandémie, elles sont durables et elles sont importantes. En passant à la prochaine slide, on va s'attarder sur les populations qui sont déjà vaccinées. Alors, on sait que le taux de population vaccinée dans les différents pays varie énormément, mais au moins, ici, on a posé des questions aux gens qui ont reçu leur dose de vaccin, et qui, en théorie, devraient se sentir plus confortables, plus capables de reprendre des activités normales. Et on voit que même les personnes vaccinées ne se sentent pas sûres ou confortables de reprendre des activités comme faire du shopping, aller chez le médecin, retourner au bureau, aller dîner dans un restaurant à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a finalement une grande part de la population qui dit être un petit peu hésitante, y compris les personnes qui sont déjà vaccinées. Donc, là aussi, ça nous interroge sur le fait que la vaccination n'est pas non plus la ramasser pour sortir de cet état d'esprit et une réouverture de l'économie, des lieux, doit s'accompagner aussi d'une reprise de confiance des gens pour avoir ces activités qui font partie de la vie. La slide suivante, on revient sur ce point qui est très important, qui est que la pandémie, certes, il y a un impact économique très important, un impact dramatique sur les vies et les familles, mais il y a d'une manière générale plus de la moitié des répondants dans les 14 pays qui nous disent avoir expérimenté des problèmes de santé mentale, plus de la moitié des gens qui nous disent avoir peur que les emplois qui ont été détruits à l'occasion de la pandémie ne reviendront jamais, et des situations financières et des inégalités qui sont loin de s'améliorer. Un point très important, c'est la question de la jeunesse. Je pense qu'on en est tous conscients au travers de nos familles, au travers de nos conversations, mais c'est vrai que la pandémie a pris un poids tout particulier pour les populations les plus jeunes, notamment celles qui s'insèrent dans le marché du travail et celles qui sont encore en train de compléter leur éducation académique. Et là, c'est vrai qu'on voit que c'est un souci sur lequel il y a une attente très forte de la part de ces générations, mais aussi de leurs familles, donc les plus aînés, de voir les gouvernements et les entreprises tendre la main à ces générations qui sont particulièrement touchées. On passe à la slide suivante pour parler un peu aussi de cette idée qu'il y a une anxiété vis-à-vis du fait qu'une nouvelle pandémie pourrait se produire. Là, vous voyez, on a 67% des gens qui nous disent en avoir peur et 38% qui nous disent carrément être vraiment très anxieux par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est présent, encore une fois, dans tous les pays. Donc, cette idée qu'on va vers le mieux, elle est réelle, mais cette idée qu'on est sorti de la situation ou qu'elle ne pourrait pas se reproduire, elle est fausse. Il y a clairement cette idée qu'on pourrait avoir une autre épidémie à un moment et que donc, il faut mesurer ses comportements et ça va être intéressant d'observer dans les semaines et les mois qui viennent, notamment à l'aune des variants du virus. La slide suivante, elle reprend cette notion de comment reconstruire de la conscience, comment inciter les gens à retourner à une vie normale ou en tout cas à une vie plus positive, plus facile, plus fructueuse aussi en termes d'économie, dans un contexte où la vérité, l'information est suspicieuse. Un des phénomènes qu'on a observé depuis plusieurs années avec le baronmètre Edelman, c'est vraiment cette chute dramatique de confiance dans les médias dont Fiorella a parlé, mais qui ne va pas en s'améliorant. Si on va sur la prochaine slide, vous voyez que c'est d'abord du fait d'un très faible niveau de confiance dans les figures d'élite, les figures d'élite religieuse, gouvernementale, médiatique et dans les patrons d'entreprise, même si on voit un léger mieux sur ce choix, mais on voit cette prime à la proximité absolue, à la proximité avec les employeurs. Donc, mon entreprise, dont j'attends de plus en plus qu'elle joue un rôle de filtre sur l'information, dont j'attends de plus en plus qu'elle me donne une perspective sur la vérité et sur les scientifiques. Donc, Fiorella en a déjà parlé, mais cette crise de l'information, elle vient aussi du fait qu'on a une situation de faible crédibilité des personnes qui sont, en général, invitées sur les plateaux de télévision ou à qui on donne la parole pour écrire les informations. La slide suivante, elle parle justement de cette crédibilité. Et vous voyez que, spécialement quand on parle d'informations sur les entreprises, vous voyez que les personnes qui sont les plus crédibles, ce ne sont pas forcément les CEOs de cette entreprise, ce ne sont pas forcément les instances gouvernementales, ce sont les experts techniques, les universitaires, et surtout, Fiorella en a parlé, les personnes qui me ressemblent, les personnes avec qui je partage un sentiment de proximité. Et j'attire votre attention sur le fait que, encore une fois, mon employeur, sur un sujet très varié, comme des sujets très variés, reste toujours, toujours, toujours crédible. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'employeur, aujourd'hui, doit offrir une perspective sur une diversité de sujets à ses employés parce qu'ils sont, à bien des égards, le dernier bastion de la confiance. La slide suivante, elle s'intéresse justement à ça. Quand on reçoit une information de différents types de sources, dans quelle mesure on va les croire après les avoir vues une fois ou deux ? Et vous voyez que, finalement, les informations qui sont transmises par les employeurs sont les plus facilement crédibles. Disons qu'on a 60 % des gens qui vont nous dire, systématiquement, je vais penser que c'est vrai ou il faut que l'entende une mille de fois. Et vous voyez que c'est bien au-delà des médias, bien au-delà des employeurs, de la publicité, par exemple. Donc, encore une fois, toujours cette prime au local et cette prime au tissu fondamental de la confiance qui est l'entreprise et le réseau et le système qu'une entreprise crée avec ses employeurs. La slide suivante, elle parle justement, du coup, de ses expectations, de ses attentes qui sont très fortes et qui mettent un petit peu les entreprises dans une situation qui n'est pas toujours confortable. Si on va sur la slide suivante, on voit que cette situation, elle n'est pas confortable parce qu'on attend des entreprises qu'elles jouent un rôle actif dans le retour à la normale et le fait d'adresser les challenges sociétaux, mondiaux, notamment ceux liés à la pandémie. On a cette question. Votre pays ne sera pas capable de dépasser les défis, de répondre aux défis qui nous sont posés aujourd'hui sans un engagement actif des entreprises. Et vous voyez qu'on a 60 % des répondants dans les 14 pays qui pensent que c'est vrai et un tiers, 33 %, qui disent que c'est encore plus vrai à cause de la pandémie. Donc, clairement, la pandémie, elle n'a fait qu'amplifier. On me dit souvent qu'elle a été un accélérateur de tendances plus lourdes, plus existantes. Mais en tout cas, sur ce point que le monde, les pays, les sociétés ont besoin des entreprises pour adresser certains des défis auxquels elles se fassent, c'est quelque chose qui a été très amplifié. La slide suivante, elle traduit aussi que les employés contribuent à ce phénomène. Et c'est perçu très clairement par l'ensemble des répondants qui nous disent, finalement, aujourd'hui, les employés sont les parties prenantes les plus importantes de l'entreprise. Et j'attire votre attention sur le fait qu'avant la pandémie, on disait non, pour une entreprise, ce qui est le plus important, c'est ses clients, et ensuite, c'est les employés. En mai, après la pandémie, on est non, non, le plus important, ce sont les employés, parce que sécurité, parce qu'un besoin de réassurance très important. Donc, clairement, il y a une perception aussi de l'extérieur que la manière dont une entreprise se comporte avec ses employés est un indicateur très fort de la manière dont on peut lui faire confiance d'une manière générale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais regarder la manière dont une grande entreprise se comporte avec ses employés, et si elle se comporte mal, je vais en tirer des conclusions sur la capacité que je peux avoir à lui faire confiance dans tous les aspects de notre relation, que ce soit dans le fait d'acheter ses produits, dans le fait d'investir dans cette entreprise, dans le fait d'éventuellement la recommander ou faire du business avec. Donc, encore une fois, une grille de lecture qui se focalise sur la relation employé-employeur et sur la manière dont elle est communiquée ou interprétée à l'extérieur. On passe à la slide suivante sur, encore une fois, 80 % des employés, 79 % des employés qui disent « j'attends que mon entreprise prenne des positions » ou contribue au débat sur des points très importants, sur l'hésitation face au vaccin, sur le changement climatique, sur la manière dont on va gérer collectivement tout ce qui est automatisation et l'impact que ça peut avoir sur les emplois, sur la manière dont on va adresser cette crise de l'information, des fake news, ce qu'on appelle l'infodémique, mais aussi sur le racisme, sur les problématiques d'immigration. Donc, concrètement, un appel de la société, mais aussi des employés eux-mêmes, à voir les entreprises entrer bien au-delà dans un débat sociétal qui va bien au-delà, encore une fois, de la performance de l'entreprise, son secteur. On a cet appel à dépasser la responsabilité minimale de l'entreprise pour embarrasser un rôle plus sociétal avec à la fois des coûts, si ce n'est pas fait, un risque et des bénéfices, si c'est fait. La slide suivante, elle conclut un peu notre présentation en disant qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui restent à régler, beaucoup d'hésitation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'optimisme sur le fait que finalement, au travers de cet événement complètement exceptionnel, complètement global, on va peut-être pouvoir avoir du positif. Et ce positif, il pourrait trouver la forme d'innovation, notamment de meilleure prise de conscience et de changement de nos modes de fonctionnement dans la manière dont on travaille ensemble, dont on collabore, dont les pays, les économies peuvent interagir vers quelque chose de peut-être plus rationnel, plus sustainable, plus positif. Et notamment, une grande attente aussi et un espoir sur le fait que la pandémie pourra nous aider à améliorer nos systèmes de santé, à être mieux préparés dans le cas d'événements similaires. Et puis, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est remote working, tout ce qui est la manière dont on travaille ensemble pour le développement des technologies, mais aussi plus d'attention aux défis climatiques. Donc, encore une fois, beaucoup de stress, une anxiété qui perdure et qui n'est pas près de s'arrêter, mais néanmoins une opportunité pour les entreprises de montrer dans quelle mesure elles tirent les leçons de cette pandémie, dans quelle mesure elles sont prêtes à assumer leurs responsabilités et à être une force de progrès, une force positive dans les années qui viennent. La prochaine slide est en fait une sorte de résumé de ce que je viens de vous dire, mais aussi de ce que ma collègue Fiorella a partagé avec vous. Clairement, les entreprises ont une opportunité, mais elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas la saisir de manière égoïste ou de manière trop centrée sur elles-mêmes. Le partenariat, il doit être la manière dont on adresse cette opportunité. Et c'est vraiment ensemble, en engageant la société civile, les gouvernements, les consommateurs et les citoyens eux-mêmes, que les entreprises peuvent le faire de manière authentique. Il y a une façon aussi de le faire où on reste dans un territoire de légitimité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'entreprise aille sur tous les sujets. Il faut vraiment réfléchir à comment être authentique vis-à-vis de là où l'entreprise a une vraie légitimité, une vraie perspective, et où elle peut contribuer en fait à un débat parce qu'elle est particulièrement… Le troisième point, c'est effectivement l'emphase sur les employés. On est convaincu qu'aujourd'hui, avec la manière dont les talents vont évoluer, dans la manière dont le travail va évoluer, il va y avoir une guerre des talents d'une certaine manière. Et plus que jamais, pour des raisons internes et aussi des raisons de réputation, les employés sont vraiment les premières parties prenantes de l'entreprise et qui vont contribuer à son succès à court terme, moyen terme et long terme. Et le quatrième point, Fiora, c'est que les gouvernements doivent effectivement jouer leur part et notamment sur les sujets de vaccination, de retour au travail, la confidentialité des données et la réalité des écarts de revenus. Donc, ensemble, gouvernement et entreprise, on peut faire face à ce monde post-pandémique. Et, Fiora, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots de conclusion également. Un mute. Merci. Credo che vi abbiamo dato tantissime informazioni e siamo à vostra disposizione, sia per ulteriori approfondimenti. Qualora ci fosse l'interesse a comprendere meglio la parte anche dei dipendenti, abbiamo un verticale proprio specifico per la parte della relazione business con i dipendenti che abbiamo visto, sono il job number one, quindi in qualche modo ogni azione deve assolutamente includerli e molto spesso, anzi, usarli come test per verificare, diciamo, su una piccola scala quello che poi può avvenire su una larga scala. Detto questo, vi restituiamo la parola. Grazie per la vostra attenzione e siamo a disposizione per rispondere a delle domande in seduta stante, sostanzialmente. Grazie. Grazie mille, Fiora, grazie mille, Antoine. Una massa enorme di informazioni che abbiamo ricevuto. Io direi che tre cose mi hanno veramente colpito, veramente colpito. Il primo che lei ha presentato, Fiora, è questo grafico, slide, dove è un paese pessimista dei paesi ottimisti, no? E osservo che le pessimisti sono la Germania, la Francia, l'Italia, ma i paesi di un certo livello economico e poi quelli che sono al massimo sono il Kenya, l'Africa del Sud e così via. Quindi è veramente strano, probabilmente c'è un'interpretazione che ciascuno di noi potrebbe fare, però i paesi di un certo livello sono pessimisti che sono già arrivati a un certo livello. Quelle che sono le situazioni con il Kenya, che conosco un pochettino, cioè veramente hanno forze di fronte a loro. Questo mi ha colpito, l'altra cosa mi ha colpito ovviamente sia l'informazione, la diffidenza sull'informazione, è molto complesso questo argomento. L'abbiamo vissuto durante quattro anni di un'amministrazione catastrofica in America. Quindi questo è stato un punto incredibile di fake news, come si dice. E poi, last but not least, siamo noi, come siamo la Chambre del Commercio, c'è il business, l'impresa. Voglio dire, il business, il CEO al cuore della fiducia che ritengo. Allora, faccio una domanda, abbiamo ancora qualche minuto, lo so che io purtroppo devo lasciarvi alle 11, faccio una domanda a voi. L'impresa, quindi questa aspettativa dell'impresa, sotto che forme voi avete attraverso il vostro sondaggio, le forme dell'impresa deve accogliere per rispondere alle aspettative dei collaboratori. Secondo voi. Ok, allora, vado diretta a questa domanda che è effettivamente interessante, perché oggi gli occhi sono tutti puntati sul business. e abbiamo visto che ci aspettiamo che il business in qualche modo vada molto al di là del soddisfare gli azionisti, del produrre prodotti all'altezza, dell'essere etico, dell'essere competente, dell'essere trasparente, eccetera. Oggi viene proprio richiesto al business come istituzione che trovi delle alleanze con il governo, con il mondo istituzionale, il mondo accademico, proprio per velocizzare le risposte di cui la società ha bisogno e si chiede che i CEO mostrino la loro capacità e la loro competenza non solo per gestire quell'azienda specifica, ma anche per essere parte di una società più completa con la loro voce, con le loro azioni, con il loro contributo proprio a livello di business per risolvere quelli che sono i problemi importanti della società. Quindi, come io dico sempre, oggi essere CEO è un tough job, per dirla come lo dicono gli americani. Però questo è in qualche modo quello che ci si aspetta dal business e se gli occhi sono proprio tutti puntati addosso alle profit companies e ai loro leader. Grazie, grazie Fiorella. Ci si sono, Claudia, altre domande che rimano ancora qualche minuti. Io purtroppo alle 11, l'ho detto in anticipo, ad ogni modo vi saluto, è stato veramente molto, molto, molto interessante. Probabilmente, lo dico a Claudia, a Greta, se è possibile raccogliere delle domande che per scritta che potrebbero rivolgervi a voi in modo di dare una risposta che veramente è molto, molto completa. Claudia, ci sono domande? Allora, possiamo, sono le 11 in punto, quindi magari potremmo porre una domanda appunto ancora a Fiorella, eventualmente proprio a chiusura di questo interessantissimo incontro. Vado subito, insomma, così poi abbiamo concluso. Allora, rispetto alla media globale in Italia, riguardo all'informazione, l'Italia, la popolazione, sembra essere più attenta alla qualità dell'informazione e in effetti i dati mostrano che gli italiani praticano una buona igiene dell'informazione, addirittura quasi migliore rispetto a quella attribuita ai francesi. Volevamo sapere innanzitutto come interpreta questi dati e poi considerando il ruolo strategico della comunicazione, se è corretto, secondo lei, affermare che la qualità dell'informazione è un'enorme responsabilità da portare avanti. Sì, io do una mia interpretazione, e poi chiedo magari anche il supporto di Antoine con la sua visione. Allora, io penso che ci sia una sostanziale differenza un po' fra l'italiano e il francese. Noi tendiamo a vedere la parte più vuota del bicchiere, mentre probabilmente il francese ha un po' più di positività, e quindi andiamo sempre un po' alla ricerca di ciò che non funziona, no? Qual è l'aspetto denigratorio, qual è l'elemento che non mi convince. Quindi, in questa situazione specifica, la nostra naturale propensione a fare il doppio check, il triplo check, probabilmente ci sta aiutando a controllare con maggior precisione l'informazione prima della divulgazione, e prima anche di credere che questa informazione sia corretta e pertinente. E sottolineavo prima che è una responsabilità singola, proprio del singolo, che esce un po' dalla collettività, che in qualche modo ci deve proprio aiutare a evitare di condividere quelle informazioni che non riteniamo siano verificate al 100%. Per cui, questa è un po' la lettura che io sto dando. Antoine, è che tu hai una posizione simile o differente? Sì, sì, mi piacerebbe dire lo in italiano, però sarebbe un po' difficile per lei, per loro. Io credo che l'Italia è un po' una excepzione su questa question. Io credo che ci hai detto, Fiorella, è tutto a fatto vero, ma io credo anche che l'Italia ha una posizione molto drammatica ed è molto speciale nel progetto della pandemia in Europa. E che, qualche parte, il fatto che l'Italia è stata frappata molto tardi, ci ha anche giù in modo che gli persone hanno potuto apprendere magari un po' meglio il bisogno di avere una informazione, una informazione, una informazione più importante. Perché al principio, non ne sapeva nulla. Non ne sapeva nulla. Non ne sapeva nulla. E poi abbiamo passato da questa fase dove non sapeva nulla, dove doveva cercare enormemente, a una fase dove non sapeva troppo, dove tutti lo sapeva. E in Francia, particolare, la virulenza delle fake news ha stata molto importante. E io credo che le persone sono un po' più tombate nel piacere, magari in Francia che in Italia, perché magari hanno preso un po' meno au serio rapidamente. Io penso anche che, in maniera generale, le social media e la penetrazione dei social media in l'ensemble dei generazioni è un po' differente in Francia e in Italia, notamment il ruolo di Facebook in la diffusione e il partage d'informazioni ha stato molto forte in Francia e magari ancora più che in Italia, il fatto di la penetrazione e di l'usaggio che che le francese hanno dei social media par rapport all'Italia. E poi, io amo la tua ipotesi che gli italiani amano bene cercare tutto ciò che può avere. E in più, mi fa piacere per una volta di vedere che in Francia sarebbero più positivi allora che in Francia abbiamo sempre il sentimento che noi vediamo il vero a moitié vita. Perfetto, io vi ringrazio intanto per i vostri contributi e per la vostra disponibilità e non so se vieni ancora connesso, eventualmente comunque siamo a disposizione per accogliere tutte le vostre input eventualmente per poterli condividere nuovamente con Edelman proprio per eventualmente fare ulteriori approfondimenti. Ringrazio nuovamente tutto il pubblico per essere rimasto fino alla fine di questo interessantissimo incontro e vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo al prossimo appuntamento della Camera di Commercio. Grazie ancora Fiorelle e Antoine per la vostra disponibilità. Grazie, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.